Grazie signori Noi lo stiamo vedendo con voi, credo che abbiamo paio e pensierino i giorni di passione. Ecco questo qui sarà un bene per la nostra cittadina, quando passeremo per questa via e anche dall'altra li guarderemo e penseremo che questi sono veramente gli errori. Grazie, vi cuore a tutti, ripasso la parola. Vuole dire qualcosa? Ringraziamo. Grazie. È importante perché non è semplicemente, e semplicemente lo metto ovviamente tra virgolette, la realizzazione di un'opera che resterà a beneficio di quest'area della città e più in generale di tutta la comunità monregalese. Ma è importante perché i nostri ragazzi, le nostre ragazze che frequentano questo istituto e non solo, hanno avuto modo di percorrere un percorso, un cammino, in cui sono state indicate alcune tappe che, come dice una frase che è qui sulla facciata, resteranno. La dice che le idee restano. Queste tappe per voi ragazzi resteranno. E sono tappe che la nostra comunità sta percorrendo in realtà da qualche tempo. Io vorrei ricordare la presenza a Mondovì, più volte, del dottor Antoci, che come voi sapete ha subito diversi attentati per mano mafiosa. Vorrei ricordare il fatto che il dottor Antoci, insieme al dottor Caselli, procuratore di Torino, ha consegnato ai nostri ragazzi e ai diciottenni la Costituzione, il testo più importante che è alla base della nostra comunità nazionale, del nostro convivere civile. E vorrei ricordare, in senso generale, che c'è un impegno della nostra città in tanti suoi ambiti sul tema della lotta alla mafia. L'aula magna dell'Istituto Alberghiero è intitolata al giudice Borsellino. Gianni Scarpace, che rappresenta parte della carta stampata della nostra città, è stato insignito del premio Caponnetto qualche anno fa per il suo impegno. Ma devo dire che in generale, e voglio ringraziare i giornalisti che sono qui presenti, queste tematiche hanno sempre rivestito e continueranno a rivestire per la nostra comunità estrema importanza. Abbiamo voluto fare anche di questo momento di incontro con l'associazione Luca Artigiani, che naturalmente ringraziamo, fare di questo momento un momento di crescita per i nostri ragazzi. Quindi la tecnologia ci ha offerto questa opportunità proprio di conoscere motivazioni, lavoro, tecniche, scelte, scelte anche di vita, perché i nostri artigiani in bianchini, come amano definirsi, hanno lasciato le loro famiglie a restare qui con noi. Noi dobbiamo passare di qui al mattino, magari ci viene spontaneo guardare il cellulare, chissà, invece alzare la testa e portare dentro di noi quello che ci è rimasto, quello che un pochino abbiamo maturato. E' un tema a me caro ragazzi, perché quando avevo la vostra età in strada in Sicilia si sparava, quando sono cresciuto, non sono cresciuto in un ambiente così, il mio compagno di banco stava a 41 bis, la scelta si faceva già a scuola. La scuola ha detto Antonino Caponnetto, famoso giudice che comandava il pull di Falcone e Borsellino, ha detto che la mafia deme più la scuola della magistratura. Ed è la verità, perché la legalità, in prima battuta, nasce nella scuola. E mi è piaciuto Pietro che ha detto che voi non siete il futuro ma siete il presente, perché voi oggi potete fare una scelta anche nei rapporti tra voi, anche nei rapporti con i bulli, anche nei rapporti di classe, decidete da che parte stare. Io in quel momento alla scuola come voi ho deciso da che parte stare. Nel 92, non voglio essere lungo però dai, perché poi questi argomenti mi toccano personalmente. Nel 92, quando ci sono state le stragi, facevo l'ultimo anno in liceo. Mi iscrivo in giurisprudenza per dare il mio contributo alla lotta alla mafia per fare il commissario polizia. E nove anni di permanenza in Sicilia, col Presidente Antoce abbiamo fatto più di 200 arresti per mafia. Sequestri di beni per 5 miliardi di euro alle associazioni mafiosi. Quindi abbiamo colpito il sistema. Ma il messaggio che vi voglio lanciare, il progetto di sicurezza su cui si è lavorato e si lavora, è un principio di sicurezza partecipata, a cui partecipa la scuola, partecipano i comuni, partecipano le forze dell'ordine in primis, partecipa la magistratura, si crea una squadra che diventa squadra contro la mafia. Anche con le idee, perché oltre ai due magistrati, leggete, sono morti gli uomini della scorta, coloro i quali lavorano nelle retrovie, coloro che nessuno cita e che nessuno vede, ma che muoiono per servire questo Stato. Questo momento, oggi qui a Mondovì, dove si parla di legalità e di mafia, il messaggio arriva, il messaggio gira, quelle persone lo sanno, ci devono temere perché siamo più di loro. In Sicilia siamo 5 milioni gli abitanti, i mafiosi saranno 5 mila, siamo più di loro. Loro hanno solo il potere violento e giocano sull'omertà del siciliano. Ma se tutti insieme facciamo passare dei messaggi di legalità come questi di oggi, la mafia si sconfigge. Grazie. Grazie. Grazie.